Caratteristiche secondo me positive considerando di nuovo l'età del ragazzo. Vi faccio vedere la situazione, qui gli avversari provano ad andare in profondità, lui legge bene la situazione, esce in maniera tempestiva, c'è da migliorare su tutto e per quanto riguarda... Lo ripeto spesso, a me frega veramente poco di fare quella o l'altra squadra, ho quasi lo stesso interesse per quanto riguarda le votazioni del prossimo presidente del Consiglio, quindi zero, ma quando si parla di Juve ragazzi a me sta piacendo l'approccio per quanto riguarda andare a programmare il futuro e gestire la squadra B. Oggi parliamo di un nuovo innesto in difesa, Pedro Felipe, facemolo stesso quando arrivò Uisen alla Juve perché lo seguivo, giocava qui vicino a Malaga, lo stesso discorso vale per Pedro Felipe, l'ho seguito ovviamente per lavoro e vediamo se effettivamente parliamo di un profilo interessante in ottica futura. Per introdurre l'analisi ragazzi vi faccio vedere qualche dato così in maniera introduttiva appunto per capire che tipo di profilo andiamo ad analizzare. Appunto Pedro Felipe attualmente 19 anni, un classe 2004 proveniente dal Palmeiras, completamente, completamente, bello sto completamente, brasiliano, quindi 100% brasiliano. Partite, quindi vediamo qualche dato a disposizione per quanto riguarda i dati, 42 dal 2022, ma per quanto riguarda le partite giocate durante il 2023 notiamo un certo tipo di fiducia per quanto riguarda le prestazioni del ragazzo ovviamente da parte degli allenatori. 73,8 minuti in media per partita, quindi un giocatore al quale i tecnici si sono affidati per quanto riguarda la difesa. In queste 42 partite, un gol e due assist contano il giusto. Occhio alle ammunizioni ed alle espulsioni. Devo dire che due espulsioni in 42 partite non sono tante, ma comunque un primo input per quanto riguarda l'aggressività del ragazzo sicuramente ce l'abbiamo. Occhio alla mappa di calore perché notiamo che viene utilizzato come centro-destra, quindi difensore centrale spostato sull'out di destra. Non è particolarmente bloccato, quindi occhio anche all'aspetto tattico perché è un difensore che non rimane lì a difendere. Ok, vi aspetto quando arrivate qua, provo a fermarvi. C'è un po' quella roba di partire e mordere le caviglie avversarie. Ma per scendere ovviamente nel dettaglio ragazzi, subito, lavagna tattica. Andiamo a rinquadrare il ragazzo ripartendo dall'aspetto tattico. Qui vedete un chiaro esempio di quanto suggerito prima dalla mappa di calore. Un giocatore che sicuramente ha la sua mattonella, difensore centrale, centro-destra, ma quando sente, a me piace dire, quando sente l'odore del sangue sicuramente si butta in avanti, palla coperta, quindi avversario di spalle rispetto a lui. A volte non ci vede più, buio davanti agli occhi, va in avanti a mordere le caviglie e devo dire che è un tipo di situazione che il ragazzo sicuramente gestisce bene. E a proposito di gestione, ragazzi, se volete gestire la vostra formazione in ambito match analysis, scouting e data analysis, quindi lavorare nel mondo del calcio come osservatori o analisti, vi ricordo che abbiamo gli ultimissimi, anzi l'ultimo posto per i corsi del prossimo mese e ci si può già prenotare per il mese successivo. Quindi formazione in ambito match analysis, scouting e data analysis, accesso ad offerte di lavoro nel mondo del calcio, accesso a programmi professionali, a software dedicati. Quindi ragazzi, come sempre, trovate tutte le info qui in basso in descrizione. Mi raccomando, se vi va, vi aspettiamo. Ma tornando al ragazzo, dicevo che dal punto di vista tattico questa cosa ce l'ha, la deve un po' limare, a volte io prima ho detto quando non ci vede più, perché a volte gli riesce la giocata, a volte no, ma devo dire che per l'età che ha vedo tanti ragazzi che partono a mille ma spesso fanno errori clamorosi. Non è questo il caso, quindi immagino che alla Juve hanno analizzato l'aspetto, le caratteristiche tattiche del ragazzo e da questo punto di vista mi sento di dire che è un ragazzo che ha sicuramente caratteristiche interessanti. Ma ovviamente parliamo dell'uno contro uno difensivo puro, della difesa pura. Com'è il ragazzo? Qui di nuovo, attenzione, di nuovo la slide ci suggerisce uno spostamento del difensore, quindi ripeto, non rimane piantato e devo dire che per quanto riguarda il tempismo delle uscite, la lettura delle situazioni, quindi leggere quando sta per arrivare una situazione pericolosa, il ragazzo ci sa fare. Tutto ciò abbinato ad una certa aggressività, ad una certa tempestività e anche durezza nell'intervento, ricordate diverse munizioni e due espulsioni, ma analizzando un difensore centrale devo dire che caratteristiche secondo me positive considerando di nuovo l'età del ragazzo. Vi faccio vedere la situazione, qui gli avversari provano ad andare in profondità, lui legge bene la situazione, esce in maniera tempestiva e se vogliamo dura, pallone recuperato e questa è un po' una sintesi delle caratteristiche difensive del ragazzo, che a me piacciono. Quindi ragazzi da quel punto di vista secondo me potenziale interessante. Occhio anche al gioco aereo, parliamo di un giocatore di 1,89 per 84 kg e quel 1,89 lo fa sicuramente pesare. Per quanto riguarda i duelli aeree, anche lì un ragazzo che può migliorare ma che mostra già tempismo, che viene utilizzato nei calci piazzati a favore per andare appunto a saltare. Dal punto di vista aereo, secondo me anche qui qualità di base perlomeno interessanti, che se migliorate possono sfociare addirittura in qualità molto ma molto importanti. Ecco l'esempio, palla spazzata, qui insomma palla ribattuta, rimbalzo, sovrasta l'avversario e dimostra che lì dal punto di vista aereo comanda lui. Ma, 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 come sempre ragazzi parlando di giocatori molto giovani non voglio dire e questo è il difetto, non mi va, sono giovani. C'è da migliorare su tutto e per quanto riguarda l'impostazione della manovra è quello l'aspetto che secondo me va migliorato di più, va limato perché nel calcio moderno un difensore un minimo deve saper giocare bene con i piedi. Non voglio sempre un regista in difesa ma l'azione parte spesso dai difensori e quindi lì devo dire che tra caratteristiche tecniche non entusiasmanti e scelte spesso al limite del surreale, devo dire le cose come stanno, noto delle caratteristiche che in Italia devono essere sicuramente migliorate. Diamo subito spazio alle immagini perché qui ve lo faccio vedere, entra in possesso, comodo, ci sono diverse scelte di passaggio, non sto qui a dire doveva darla a quello, a quello, a quell'altro ma sicuramente la scelta effettuata ragazzi innesca un contropiede gratuito con diversi compagni di squadra a disposizione ma dal punto di vista tecnico e di nuovo delle scelte durante la fase di possesso il ragazzo qualche difficoltà ce l'ha. Ma secondo me parliamo comunque di un difensore e dobbiamo parlare di un difensore che secondo me ha potenziale quindi un acquisto che io definirei buono come sapete però questa è solo e soltanto la mia analisi. Avendo visto le immagini qualche dato e qualche indole se vogliamo del ragazzo fatemi conoscere qui in basso nei commenti quali sono le vostre letture. L'analisi di oggi finisce qui, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi, un salutone ed al prossimo appuntamento. L'adattamento come sempre è fondamentale però secondo me ci siamo, caratteristiche da difensore pure ne ha. Vanno migliorate? Però occhio perché di partenza ci siamo.